E' una partita di Konash su League of Legends Ovviamente, è andata molto bene, stavo giocando con la maggior parte del mio team era italiana E vinciamo per un pelo alla fine, non vi spoilerò niente Comunque qua non c'è l'intera partita, c'è solo la parte centrale, il clou dove penso che faccio più kill E niente, è tutto lì Vi ricordo che se volete giocare a League of Legends con me potete aggiungermi il nome d'anno tra 96 come oggetti sullo schermo E niente, passiamo agli aggiornamenti Allora, il primo aggiornamento di cui voglio parlare sono le nuove serie che inizieranno sul mio canale O che cercherò di far partire sul mio canale La prima serie è la serie della posta Un po' come la posta di Quit che appunto fa Quit sul suo canale E durante questi episodi della posta risponderò anche a suggerimenti Cioè, risponderò anche a domande che mi chiedete voi Quindi vi darò dei suggerimenti Vi darò dei consigli Eccetera eccetera Su qualsiasi gioco, anche sul vostro computer O che ne so Su come fare qualcosa, eccetera eccetera Qualche volete in poche parole E... Per partecipare a uno di questi episodi Voi dovete solo mandarmi appunto i messaggi Un messaggio con scritto per la posta E... Io poi, se sceglierò la vostra domanda Risponderò durante la posta E avrete una risposta Che fa anche rima E la nuova serie che vorrei iniziare è League of Legends Builds Oppure League of Legends Info Allora, League of Legends Builds Si basa... Appunto sul... Sulle build per ogni campione Eccetera eccetera Però quella cosa è... È un po' più scontata Perché... Non penso di farla Perché appunto Per prendere tutti i champion Per prendere tutte le rune Eccetera 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 È un po' difficile perché Io non sono come Freak O Freak Come lo volete chiamare Sa, due accenti diversi Certa gente lo chiama e non mordo Certo, quindi lo chiamano in un altro Che lavora per appunto la Riot Games Che è la compagnia che ha creato League of Legends E quindi ha tutte le cose gratis Può prendere tutte le cose gratis Eccetera 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 I migliori champion per partire Eccetera 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 Un'altra mini serie Che però penso sia molto difficile Che potrebbe appunto apparire Sul mio canale È la serie Dei Machinima di Minecraft Come sapete Se non l'avete ancora visto Ma penso che tutti l'abbiano già visto Ieri L'altro ieri Ho postato un Un piccolo Machinima Di Minecraft Che ho fatto in una giornata Perché ero annoiato E non avevo nulla a fare E ho postato questo Machinima E Ha avuto un buon risultato Su di voi almeno Quanto ho visto C'erano almeno 35 Mi piace Non me lo ricordo i quanti Esattamente Però il problema di questo È che Uno ci vogliono idee E quello non è un grossissimo problema Due ci vuole un server Per svolgere tutte le cose E il terzo Ma non ultimo problema È appunto Gli attori Gli attori per registrare Questi Machinima E Il problema più grosso con questo È gli orari Eh Avere abbastanza attori Per ogni cosa Eccetera eccetera Però Per questo Questa cosa verrà Rimandata un po' più avanti Eh Il La seconda cosa Di cui vorrei Il secondo aggiornamento Di cui vorrei parlare La mi sto incasinando Con le parole È Dei cambiamenti Nelle serie Che stanno andando Adesso sul mio canale Come Il let's play E Il mod of the week Che verranno cambiate I due nomi Non i due nomi Verranno cambiate Delle cose In essi La prima cosa È che nel let's play Verrà cambiato Il La mappa Uno perché Era stata creata Nella 1.7 Quindi era una mappa Piuttosto vecchia E due Perché Ho installato Una nuova mod Che si chiama Tale of the kingdoms E La mia vecchia mappa Non era compatibile Con Questa mappa Con Con questa mod qua Quindi con la nuova mod Mi funziona E Mi sono dato Tutti gli item E ho rifatto Una piccola casetta Uguale a Come a quella Che avevo prima Quindi un cubo Di cobblestone Vuoto all'interno E E mi sono dato Un po' di item Per Fare la cosa Un po' più Un po' più E E E E E E E Per non Dover Ricominciare L'intero Let's play Da zero La seconda Novità Nelle serie Il secondo cambiamento È in Mod of the week Che cambia il nome da Mod of the week A Mod spotlight Perché ormai La mod Cioè Questi episodi Non li faccio più Settimanalmente Ma quando capita Quindi il nome cambierà In Mod spotlight La terza cosa Che vorrei parlare E una delle più Due più importanti Di cui vi vorrei parlare Oggi È Ehm I vostri video Le vostre partite Di qualsiasi gioco Sul Mio canale Quindi verranno Come Voi me le manderete Commentate da me Ehm Voi me le manderete Io le commenterò E poi verranno Caricate sul Mio canale E Nella descrizione Verrà messo Il vostro canale Perché voi Mi avete dato appunto Il video E Io ho aggiunto Il commento E verrà Sponsorizzato il vostro canale In questa maniera I requisiti minimi Sono Ehm Ovviamente Mandare una Partita O un gameplay Di qualsiasi gioco Basta che Non sia Un video noioso Perché ovviamente Sennò chi se lo guarda Che sia Renderizzato In Renderizzato E registrato In HD Almeno Che sia In qualità HD In poche parole HD significa Alta definizione Per chi non lo sa Ehm Senza lag Esagerato Ehm Tipo Un FPS Si sono spiegati Ehm Niente musica Niente commento Ehm E per i suoni del gioco Potete lasciarli Basta che Non siano O troppo forti O troppo alti Ehm I video in sé Li dovete mettere In una zip Caricati su un Sito Come Di sharing Ehm Tipo Mediafire O Mega Upload Non consiglio Mega Upload Perché Ha un sito Molto lento Sia a caricare Che a scaricare Quindi Consiglio altri siti Ehm E una volta caricato Mi mandate Un messaggio Con scritto Ehm La mia partita Sul tuo canale Il mio gameplay Sul tuo canale Qualcosa del genere E io Darò un'occhiata Appunto Al video Se andrà bene Vi avverto Mandandovi Un messaggio indietro Ehm Appunto Userò la vostra partita La commenterò Eccetera Eccetera La quarta cosa E forse la più importante Di cui vorrei parlare È appunto Ehm La partnership Non quella di youtube Ma una partnership Con il mio canale Questo sa significare Che Ehm Voi almeno Una volta al mese O anche più Potrete mandarmi Un vostro video Commentato da voi Ehm Con una vostra partita Registrato da voi Eccetera Eccetera Ehm Sul mio canale Quindi voi me lo manderete Io lo caricherò sul mio Ehm E i requisiti Per fare appunto Questa partnership Col mio canale È avere almeno 500 iscritti Perché Se no Uno Ci vuole Neste solo voi E due Io Cioè Di solito Quelli sotto i 500 Non sono i migliori A fare video Anche se ne ho visti Anche di bravi Sotto i 500 Ehm Almeno aver fatto Dieci video Commentati Ehm Su qualsiasi gioco Non importa il gioco Ehm Che sono già presenti Sul mio canale Sul vostro canale Non contando Tipo il primo Il secondo Che tipo erano i primi Due che avete fatto Quindi avete almeno 12-13 video Sul vostro canale Ehm Per appunto Dare un'occhiata A voi Come fate video Come siete voi Eccetera eccetera I Questi video Devono essere in HD E anche i video Che mi mandate Una volta al mese Devono essere in HD Ehm La terza cosa È mettermi in subbox Stessa cosa Che farò anche io Con voi Ehm La Un'altra cosa È Avere almeno 14 anni Questa cosa Ehm Vi chiedo scusa Per questa Però A me non piace tanto Avere Gente piccola Su Youtube Lo so che tanti di voi Sono tipo 13 12 anche Anni E lo capisco Però Tipo Per gente che fa i video Quelli con Poca età Che hanno ancora la voce Che si sta sviluppando Mi stanno un po' Sulle palle Devo dirlo Ehm E quindi Chiedo Che avete almeno 14 anni E se dite di averne 14 anni E poi io vengo sul vostro canale E avete la vocina Tipo così Ovviamente non vi crederò Ehm E questo è una Una delle cose più importanti Anche se Vi chiedo scusa per questo So che tanti si arrabbieranno E anche per la cosa Dei 500 iscritti Perché non tanti Hanno 500 iscritti Io sono già fortunato Ad averne così tanti E vi ringrazio Ehm Ehm Non tanta gente Verrà scelta Per questo programma Ehm Dopo che voi Mi avrete Mandato la richiesta Ovviamente Sempre via messaggio Ehm Io guarderò I vostri video Vi terrò Sott'occhio Una settimana Se postate video Se non postate video Eccetera eccetera Guarderò Guarderò quanto frequente Postate video Praticamente vi Controllerò Da 0 a 1000 Ehm E se sarete scelti Vi venderò Un messaggio Ehm Via YouTube Chiedendovi Il vostro contatto Di Skype E Ne parleremo Tutti su Skype Oppure la vostra mail E ne parleremo Lì Perché Parlare di queste cose Su YouTube Non si sa mai Ehm Magari i messaggi Non arrivano Vanno persi Eccetera eccetera E quindi Via mail Via Skype E meglio Ehm Un altro aggiornamento Di cui vorrei parlare Ehm Del news Sul secondo canale Ehm Il secondo canale Non è stato usato Molto Nell'ultimo tempo Cioè Non è proprio Stato usato In poche parole Ho giusto caricato Un video Ieri L'altro ieri Non me lo ricordo Ehm Dopo tipo Quasi un mese Senza che non sono Proprio video belli Che Li puoi guardare O magari Dalle un'occhiata Sono video corti Di 10 secondi Eccetera eccetera Oppure video random Proprio a cazzo Quindi sul secondo canale Verranno caricati Molto probabilmente Questo non lo Non lo so Ehm Ehm Di Di walkthrough Di giochi O di partite Che faccio io tipo A caso Su Team Fortress Su Su League of Legends Che ne so Ehm Verranno caricate Intere Senza commento Perché appunto Il secondo canale È solo Un canale di Come si può dire Un canale Dove metto tutte le cose Di rifiuto Cioè Non di rifiuto Perché fanno schifo Però di rifiuto Perché non le uso Ehm Tutti Questi video Che verranno caricati lì Voi potrete Prenderli Boh Non capisco Perché qualcuno Dovrebbe prendere Un walkthrough Tipo di Che ne so Di prototype Un gioco A caso Mi è venuto in mente Però se tipo Uno vede una bella partita Di Team Fortress E vorrebbe commentarla Ehm Potete prenderla Ehm L'unica cosa è Manda Mettere un link Al mio primo canale Ehm Nella descrizione Perché appunto La partita è mia Eccetera eccetera Il video è mio E almeno mi date un po' di crediti Ehm La sesta Penso sì E Penultima cosa Beh no Ultima cosa Ehm Nei commenti di questo video Dove Ehm Non dovete Vi chiedo Di iscrivermi Ehm Cose che volete vedere Su questo canale Giochi che volete vedere Su questo canale Beh giochi Non esagerate A dirmi Voglio questo Quello, 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 questo Su quello, quello Eccetera eccetera Perché non sono ricco Ehm Argomenti di cui Volete sentire Tipo Commentati sopra una partita Che ne so Di League of Legends Argomenti vari Eccetera eccetera Tutte le cose In poche parole Le cose Vi piacerebbe vedere Sul canale Ehm L'ultima cosa Prima che vi saluto Vi Ehm Ricordarvi che ho Una pagina Facebook E un sito Che vi linko Nella descrizione Ehm Niente Con questo saluto Bella raga Qui da Anifra Grazie a tutti Ehm Grazie a tutti.